amore sei atterrato al luxor ce l'hai fatta siamo atterrati con la egypt fly il conte è atterrato al luxor dal cairo al luxor ora chiamiamo un autobus per andare al luxor e poi si fa una scampagnata non lo so vediamo vabbè ragazzi ma tra poco il conte ha trovato anche sedile ovvio va bene certo a tra poco il conte è sceso è arrivato al luxor ufficialmente il conte al luxor cioè voglio dire ma non è che tutti i giorni arrivano un conte al luxor è scelto basta luxicare scelto vabbè ragazza dopo che qua non posso non lo so dobbiamo recuperare le valigie si sono arrivate da tra poco vedete a top viaggi e la 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 il nostro e la top viaggi top viaggi non poteva non potevamo che essere noi top o vabbè a tra poco ed eccoci al luxor scelto al luxor siamo arrivati amore dove andiamo ora ho finito karnak le tue karnak le sue karnak sono stanca si ora gli faccio la foto al conto vabbè ragazza dopo dal tempio di karnak